ebbe la presentazione ghiotta ghiotta presentazione di Paolo Franceschetti che poi lo fa in modo assolutamente normale, ordinario, però quei tre passaggi sconvolgenti e non sono i soli contenuti nel libro di prossima uscita di Solange Manfredi saranno anche il tema portante, il figlio conduttore di questa bellissima conferenza che si terrà il 20 aprile, tra qualche giorno vi diremo anche dove, inizieremo la serie di prenotazioni ingresso gratuito ma dovete prenotarvi perché io ci tengo da sempre, Elena lo sa, lo sapete anche voi, in modo particolare 300, 400, che siano 400 per vedere la gente in piedi, a me da sempre, il disordine conferenziale credo che non aiuti mai i relatori. Tu ti ricordi quando presentammo Plainsight e poi fu la prima cosa che facevano, fu bellissimo perché fino a un'ora prima appunto dell'evento avevamo persone che chiamavano per prenotarsi e cerchiamo sempre anche di tenere il polso della situazione perché altrimenti rischiamo di dire di no a tante persone per paura appunto di non riuscire a farla entrare poi nella sala quando poi magari c'è qualcuno che ha un imprevisto o altro quindi cerchiamo di fare qualche cosa di fraterno. La gente di Overture ha uno scarto minimo proprio, siamo allo 0,01%, lei manca da qualche anno ad Overture. Invece credo che i due trecento i soliti deve proprio che te posso rubare la macchina, rubano la macchina al prof, può venire, poverino, andiamo a prendere noi e quindi è risolto il problema. Quindi il 20 aprile questa grandissima conferenza ovviamente a ragione Elena ad ufficializzazione del luogo, l'orario grosso modo dovrebbe essere quello delle conferenze serali e inizieremo questa questa lista di prenotazione ed è una conferenza bellissima perché ci sarà il maestro Paolo Franceschetti e da oggi la principessa del castello Solange Manfredi che ci parleranno proprio di controllo psicologico. Di come in realtà si stia fomentando l'odio nella gente e la paura, la paura ricordiamo sempre il contrario dell'amore, quindi odio, paura, rancore, ansia, contrapposizioni di movimenti, contrapposizioni di razze, di religione, tutto quello che si può fare per cercare di indurre la negatività nel mondo che è l'arma migliore che appunto vuole muovere quest'esercito di persone che sono quelle che non ci piacciono. Caro Franceschetti, carissimo, allora articoli, lavori in mente di prossima pubblicazione, stai lavorando su qualcosa o la primavera ti porta a abblandirti di questo. No, articoli improvviso a seconda del caso, insomma, non ho grossi progetti in mente. Sai che l'ultima volta molti amici mi hanno chiamato sulle bestie di Satana, tra l'altro, dice seguiamo l'evoluzione di Paolo, beh lì credo che ci siano anche i tempi tecnici, quelli strettamente processuali. Lì credo di presentare la revisione, spero, cioè sto lavorando per presentarla prima dell'estate, tra giugno e luglio, perché di prova ne abbiamo raccolto abbastanza e sarebbero già più che sufficienti per mandarli fuori, ma vogliamo cercarne un carico ancora più consistente, perché è talmente palese l'innocenza di questi ragazzi che in realtà il problema non ci sarebbe. Infatti abbiamo messo anche in rete tutti gli atti in modo che chiunque si li possa scaricare e leggere per vedere le assurdità che sono state dette in questo processo. Elena, tutto quello che sai è falso. Io? No, 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 bellissimo il libro, no? Sì, sì. Fortunata tra l'altra, esperienza editoriale. Stampato e ristampato. Sì, credo che sia la terza, al terzo volume, tutto quello che sai è falso. Sì, è stato anche aggiornato se non sbaglio. Aggiornato. Il blog lo trovate facilissimamente, digitate su un motore di cerca qualsiasi, il nome Paolo, già come state a Francia, vi si finisce la frase in estensione. Paolo Franceschetti, un blog bellissimo, scorretelo tutto perché ci sono degli spunti straordinari, delle verità assolutamente nascoste ed importanti, molto importanti. Che dire, ogni volta che stai qui è un amico che viene a trovarci a casa, io ti ringrazio infinitamente per tutto, ti voglio bene, sei una persona per bene. Grazie. E come disse Massimo Mazzucco in una contesa che poi lo ha visto difenderti, dice ma non è il mio ruolo, neanche serve a Paolo, io posso condividere o meno quello che dice Paolo, Paolo può condividere o meno quello che dico io, di Paolo Franceschetti mi spendo per la sua grande onestà intellettuale, per la sua grande passione per questo lavoro. Devo dire su Massimo che io condivido tutto quello che fa lui. Sì, è pericoloso. Non ci sono parti che non condividono. Lui so che non condivide, cioè non è che non condivide, non si occupa di alcune parti su cui rimane un po' scettico del mio lavoro. Bravo, ma no che non condivide, lui ha sempre detto io, lui mi chiama la sera e dice. Un grande rispetto. Ma cazzo, ma te Franceschetti cioè ti piace, ma tu lo conosco, ma io non conosco. Ci sono elementi tuoi specifici di studio che non lo interessano. Però è anche per una cosa Davide, io in questi anni in cui non ho sentito più di tanto cioè lo ascoltavo per radio quando veniva qui da te, però non lo sentivo personalmente. Ti dico che Massimo Mazzucco ha fatto un cambiamento radicale. Perché ha tolto una cosa da questo lavoro, cioè ha tolto un aspetto dal punto di vista della reazione pubblica di questo lavoro. Massimo era uno che partì da testa bassa tutto cuore. Gli ho detto ma tu hai le prove, gli elementi. Massimo era uno che lo ferivano, certe critiche lo ferivano. Gente che fa il lavoro come lo facciamo noi, le critiche. Piovono con te. Ragazzi, devi chiudere la radio, chiudere la redazione, andrà a casa e vive, è un altro mondo. Andrà a fare una passeggiata, incontrare gli amici, legge un libro. Perché se stai dietro a tutto, nel bene o nel male, diventi matto. Grazie di cuore a voi per la cortese attenzione. Domani parleremo di piccola e media impresa italiana dalle nove le dieci con la speranza che questo buon comparto fondamentale per la nostra economia possa riattivarsi al più presto. L'aforisma del giorno che voglio dedicare a Paolo Franceschetti e di Elena Parisi. Esatto, ed è proprio per Paolo e sono le parole di Harry Potter. Sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità. Grazie a tutti.